Industria pesante e sostenibile non è uno simoro ma una sfida, la quale oggi sono chiamate le grandi aziende energivore, in tempi in cui il caro energia costringe a fare scelte dolorose, come fermare produzioni, ma anche trovare soluzioni di risparmio energetico intelligenti, avviare processi di riconversione e di ecosostenibilità. In questo contesto si è ripetuta in questo 2022 l'iniziativa di Colacem, azienda eugubina del cemento, di Cementerie Aperte, che svoltasi in precedenza allo stabilimento di Ghigiano di Gubbio, ha invece coinvolto in questa edizione quello di Rassena, in provincia di Arezzo. Rassena è una piccola realtà tra i comuni di Castelfocognano e Bibbiena, a cui già si utilizza da tempo tra i combustibili di cementeria, il CSS con un investimento recentissimo di 2 milioni di euro fatto dall'azienda per l'installazione di un filtro ibrido a garanzia ulteriore di ecosostenibilità. Oltre 800 visitatori hanno partecipato all'iniziativa dell'Open Day. Numerosi studenti, rappresentanti delle istituzioni provenienti anche da fuori regione, cittadini che hanno potuto visitare la cementeria, accompagnati in gruppi da tecnici che ne hanno spiegato le principali fasi del processo produttivo, la moderna sala centralizzata e controlli H24 su emissioni e prodotto. Tra gli ospiti, i sindaci dei comuni più direttamente coinvolti dalla presenza della cementeria in questa zona della Toscana. Una bella giornata qui alla Colash e mi devo dire ringrazio davvero tutti quanti perché anche per il nostro territorio del Casentino è un bel momento per far capire alle persone che si può produrre e si può produrre in maniera sostenibile e soprattutto che la produzione anche di materiali come il cemento sono fondamentali per la nostra società, sono fondamentali anche per il nostro territorio perché queste aziende danno occupazione a tante persone, a tante famiglie e rendono solido una società, una comunità e ne sono il motore della comunità stessa. Quindi in Italia credo che dobbiamo prendere esempio da queste realtà che producono, producono bene in maniera sostenibile, rispettando l'ambiente e tutte le normative e lo fanno appunto dando anche al territorio un ritorno in termini di occupazione. Quindi grazie a Colash per questa bella iniziativa e credo che noi tutti anche le istituzioni in primis dobbiamo prendere esempio per cercare di rendere la vita più facile a queste attività. Questa visita è estremamente interessante, interessante perché fa bene che anche il cemento, qualcosa è nato già un secolo fa, si può dire, del cemento vero e proprio, come si può rinnovare anche con il discorso dell'ecosostenibilità, visto che comunque si può fare un ciclo ovviamente chiuso del cemento in cui si riproduce tutto quello che può essere messo come materia prima, ritolta ovviamente dal cemento a sua volta. L'occasione di visitare una cementeria dove già si utilizza CSS era quanto mai utile agli amministratori per toccare con mano un argomento sul quale c'è stato e c'è molto dibattito in Umbria. Per questo erano state invitate anche le istituzioni umbre dalla giunta regionale rappresentata per l'occasione dall'assessore alle infrastrutture Melasecche, ai consiglieri, il presidente di Ali Umbria e sindaco di Gualdotadino, Massimiliano Presciutti, invitato tutto il Consiglio Comunale di Gubbio e la giunta, presente in veste istituzionale, manca del PD. Devo dire che la consiglio a tutti, la consiglio ai tecnici ovviamente che già la conoscono, ma la consiglio anche ai politici perché bisogna capire, bisogna visitare, bisogna rendersi conto di quello che è avvenuto nei decenni come miglioramento delle tecnologie per cui lo stabilimento già di dieci anni fa oggi sarebbe probabilmente vecchio. Immaginiamo quello di 20-30 anni fa, quindi c'è una storia lunga dietro e dentro a una fabbrica di questo genere e è estremamente interessante capire le evoluzioni tutte nella logica ovviamente della maggiore efficienza ma assolutamente nella logica del recupero energetico e per evitare emissioni inquinanti. Quindi devo dire che per poter decidere le sorti di una fabbrica occorre conoscerla e quindi la consiglio a tutti.